Decine di migliaia di fossili e rocce provenienti da tutto il mondo e raccolti negli ultimi tre secoli. La meravigliosa Sala delle Palme Fossili e poi molti altri mondi perduti e paesaggi scomparsi. Questo è il grande viaggio nel tempo che accompagna i visitatori del Museo di Geologia e Paleontologia di Padova. Nuotare come in un mare pietrificato circondati da pesci fossili. Attraversare paludi disseminate di tartarughe carnivore, coccodrilli e strani mammiferi. Musica Musica Guardare negli occhi elefanti nani e tigri dai denti a sciabola. Un'esperienza emozionante per capire che i fossili non sono soltanto belli. Ci insegnano che il tempo profondo della Terra è la chiave per comprendere il futuro. Musica 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 Musica